È stato aperto in occasione dell'8 di marzo, la giornata internazionale delle donne, lo sportello di ascolto voluto dal coordinamento delle donne Fisaskat Cisle e Fai Cisle. Sì, sono molto contenta di far parte di questo progetto, quindi Donna per le donne. E lo sportello appunto si configura come spazio in cui accogliere richieste e fornire informazioni utili per i percorsi da intraprendere o anche per alcuni servizi presenti nel territorio che sono sconosciuti per determinate situazioni. Un progetto in cui tutte le donne iscritte e non al sindacato avranno un punto di riferimento dove essere ascoltate. A loro disposizione per due volte al mese una psicologa e una pedagogista. Sembra che abbiano sempre più bisogno, anche dopo il Covid, le famiglie di un intervento psicologico. Sì, certamente, famiglie sia con adolescenti ma anche famiglie che hanno subito dei gravi danni a livello psicologico per questa chiusura repentina. E quanto è difficile far aprire le donne in caso di violenza? Può essere una cosa molto difficile, bisogna andarci in punta di piedi, chiaramente. Deve venire dalla persona la ricerca di aiuto e noi siamo qui anche per questo, insomma. Grazie.